ciao a tutti siamo ricchi e teo and this is allora abbiamo appena visto che è uscito il video nuovo di luisa sonza è una garuppa quella l'abbiamo già fatta e se volete andare a vederla la trovate sotto vi lascio il link anche la scheda qua da qualche parte esatto e guardate un po chi ci ha commentato flash 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 pose pablo vittar ve lo lasciamo qui andate a vedere è lui e noi stra adoriamo un bacio e adesso se volete seguirci su instagram teo jones e borit richard e iniziamo subito a guardare il video di luisa sonza che io ho già visto un pezzettino e it's a mermaid sempre una sirena eh ma hanno visto un pezzettino piccolo 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 iniziamo bello mi sa tipo dell'inizio della mummia il film in egitto facendo tipo audio come si chiama quel film dell'esploratore oh è un vuoto ah hai capito le scritte notch perché già da qua sembra bellissimo indiana jones comunque indiana jones no ragazzi bellissima no 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 adoro oddio no 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 da sirena bellissima anche qua eh no ragazzi no 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 Ma l'abbiamo detto Io Che ha l'esploratore che c'era all'inizio Io sono scioccato perché è bellissimo Il video è qualcosa di... Voglio vedere ancora l'idea serena Eccolo Poi è un video originale perché non l'ho mai visto fatto da qualcuno Una cosa del genere Stai scher... oddio No no è seria Ma poi è fatto anche bene proprio Cioè l'ha fatta la sirena anche questo ma è davvero bene Cioè anche qua Il mancia? No Oddio Che va Io adoro le sirene Io adoro le sirene No ma anche quelli con le corna, i propri costumi Visto? Ha preso Ingannatrice Come qualcuno L'ha ucciso Sì lo sapevo Ragazzi Allora io al video do 10 Voto 10 Sì Se no merita 10 Ma stai scherzando? Un video dei più... Bellissimo 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 da Luisa Sonza Luisa Sonza top Complimenti Una dei video più belli secondo me che abbiamo mai fatto sul canale Sì una dei più belli Commentate Hashtag adoro Luisa Sonza Hashtag Luisa Adoro Luisa Adoro Sonza Tutto Bellissimo 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 davvero bellissimo se vi è piaciuto anche a voi tanti like iscrivetevi al canale su instagram Teo Yonse e Bored Richard ci vediamo con un prossimo video Obrigado Obrigado Ciao